La fortuna del mio mestiere è che puoi intervistare delle persone che vuoi conoscere. Una di queste è Enrico Ruggeri. Buonasera, benvenuto a Quarta Repubblica. Allora ne approfitto subito. Hai scritto un libro, ci diamo del tu, perché non so perché io te lo do in autonomia, Un giorno da ragazzi, per la nave di tesi. Un gioco da ragazzi. Però, prima di questo libro, che però è molto importante, per raccolta un po' di destra, un po' di sinistra, un po' di estremismo, la famiglia, gli anni 60, eccetera, e a me io sono rimasto impressionato dalla tua posizione, diciamo, come posso dire, un po' non convenzionale, che io adoro, sulla questione della narrazione del virus, di questo virus. Cos'è che ti ha colpito che non ti convince? Ma mi colpisce il fatto che siamo in una società che non accetta la morte. Non accetta tutto invecchiare e morire. E quindi il principio sacro inviolabile è pensa alla salute. Ora, se noi guardiamo quello che è successo nell'umanità, se tutti quelli, se tutti avessero pensato alla salute, pensa a Cristoforo Colombo, pensa alla salute, che ti frega di prendere, di dimostrare che la terra è rotonda, pensa ai partigiani. Non avrebbero mai combattuto. Non avrebbero mai combattuto. Tutti quelli che hanno combattuto per un'idea, tutti quelli che avevano qualcosa di grande, lo hanno fatto non perché pensavano alla salute. Ora, è chiaro che poi uno cerca di vivere il meglio possibile, il più possibile, di salvaguardarsi, eccetera. Però muoiono 4-500 persone di cancro al giorno. Muoiono 4-500 persone al giorno, da sempre, da quando siamo nati, di problemi cardiovascolari. Allora, io sorrido un po' se vedo uno con la mascherina che poi magari ha un'alimentazione disastrosa, fuma, ha 2.000 di colesterolo e non si è mai premurato perché nessuno l'ha detto. Sai che cosa rischi? Che ti dicono che tu sei un negazionista. Ma no, certo, ma lo so, ma mi hanno minacciato di morte, mi hanno augurato di morire, mi hanno augurato di morire di Covid, così capirai. Io capisco benissimo che c'è un'emergenza, cioè giro con la mascherina, mi lavo le mani, uso tutti i protocolli, a parte che per il mio lavoro faccio un tampone alla settimana come i calciatori, per cui... Ma c'è una... Però questo è quello che mi preme ricordare, non possiamo rinunciare a vivere per la paura di morire, perché è contro natura. Secondo te libertà e salute, perché tu stai facendo un grande inno alla libertà, da come la vedo io, sono due cose che in realtà si intrecciano o no? Si intrecciano, come tutte le cose nella vita, ogni tanto prendono percorsi un po' divergenti, questo è normale, ma voglio dire, non sono né negazionista né matto, mi rendo conto che tra le tante emergenze, perché il cancro è un'emergenza, perché l'ictus è un'emergenza, l'infarto è un'emergenza storica, adesso ce n'è una in più. Tu la senti questa violazione della tua libertà con i DPCM? L'hai percepita? Beh, ovviamente, sai, il problema... Ma tu non contavi andrà tutto bene, non stavi sul balcone? No, non stavo... Hai presente la rana di Chomsky? E come no? Ecco, la rana di Chomsky, lo dico velocemente, l'esperimento fu, prendi una rana, la butti nell'acqua bollente, la rana salta fuori immediatamente, poi prendi un'altra rana, la metti nell'acqua fresca, e la rana sta bene, poi cominci a alzarle la temperatura un po', e la rana dice, ma che calduccio, niente male, poi comincia a dirlo, gliela alzi, e comincia a dire, certo, fa un po' troppo caldo, magari poi passa, bisogna, sarà, bisogna, poi alzi, 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 e a un certo punto la rana non ha più la forza di saltare fuori, perché si abitua al peggio, fino a morire bollita. Ci stiamo abituando al peggio? Il pericolo è questo, è chiaro che tutte le cose puoi non farle, tu hai voglia di sciare, non scii, mica muori, vuoi fare cenone, non fai cenone, non vuoi andare al cinema, si può anche non andare al cinema, vuoi che non facciamo più i concerti, non facciamo i concerti, piano piano, come la rana di Chomsky, stiamo togliendoci tutte queste cose, è esattamente la stessa cosa. Spiegami una cosa, tu hai due figli? Quanti figli hai? Io ho tre figli. Tre addirittura? Quanti anni hanno? Uno, trenta, uno, vabbè, trenta diciamo che è come no. Trentici, poi uno, quindici, e una bambina di dieci. Quindici e dieci mi interessano. Quindi adolescenti, perché ormai una bambina di dieci anni è quasi adolescente. Vabbè, ma loro come stanno vivendo questo lockdown? Io credo che i nostri figli subiranno delle conseguenze tremende per anni. Io credo che il 50-60% di quello che noi siamo è quello che ci è capitato dai 13 ai 18-20 anni. Lì è stata la nostra formazione. Quando vedo mio figlio che anche quando potrebbe uscire ormai dice ma sì, cosa esco a fare? Mi spavento perché è come si apri le gabbie allo zoo. Gli animali mica escono subito, rimangono lì. In cattività stanno. Rimangono in cattività. E questa non socializzazione, non confrontarsi è un peso che i nostri figli porteranno per tutta la vita. Tu tra i 13-15 anni stavi, parliamo del libro, ma non del libro, della tua vita, tu stavi negli anni di più omo dell'Italia. E quindi ti ha formato anche te quegli anni in là. Tutto forma. Ma che ti ha formato? Che c'hai di quegli anni in là? Ma forse... Questo fatto che la pensi un po' diversamente diciamo dal genere... Dai cantanti medi. Dai? Dai cantanti medi. No, 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 non volevo dire questo. No, ma io semplicemente intanto credo che oggi caso per caso una persona se ha un parere lo debba dire e non necessariamente far parte di queste due tifoserie per le quali c'è una cosa che va di qua allora la cosa va di là. Io nel 2003 mi sono impegnato sulla pena di morte. Ho scritto una canzone e sono andato a Sanremo a parlare della moratoria sulla pena di morte. Quindi a seconda dei casi se credo sia opportuno se credo sia opportuno dire la mia prendo la posizione. Però lì sei più comodo perché sulla pena di morte c'è una grande diciamo... È più ecumenico tu dici. Eh beh, lì sono tutti... Guarda che la posizione te lo dico molto perché l'hanno spostata in politica cioè chi ha la tua posizione viene considerato un pericoloso oltre che negazionista ma destro di destra cioè questa parola incredibile cioè si diventa di destra se uno ama queste libertà? Ma a parte che è curioso che oggi un po' si capovolgono i ruoli cioè fino a tanti anni fino a 30 anni fa diciamo così per dirla grossolanamente la sinistra difendeva i deboli e la destra difendeva i privilegi. Sì. Oggi nelle banlieue parigine votano la Le Pen e nel centro votano Macron è curioso quindi cambia un pochino... Che risposta ti sei dato a questa situazione? Perché avviene questo? C'è uno scollamento... Ma allora chi è a favore dice è perché in questo momento c'è una destra che intercetta i valori chi è contro scusa che intercetta le istanze chi invece non è contro dice c'è una destra populista che fa leva sulle pulsioni peggiori della gente quindi ai posteri la sentenza... Guarda io sono molto incuriosito dalla tua posizione perché gli artisti cantanti posso dirti la verità hanno posizioni sempre molto nella linea... Sono dell'Inter ma anche del Milan ma un po' della Juve però voglio bene a Napoli questo è il cantante medio sui social... Ma io non dico compassione lo dico insultandoli però hanno questo atteggiamento o sbaglio gli artisti... Beh c'è sempre la paura sai oggi i social sono terribili danno voce a tutti oggi Fragolina 2003 mi scrive che non le... Io ho commissato mal che scrivo male i testi e tutti parlano di tutto e quindi c'è un po' questo terrore per il quale il cantante o il personaggio pubblico cerca di non prendere mai posizioni se ci fai caso sono sempre a favore di qualcosa ma non... mai contro qualcosa Ma negli anni 70 tu eri a favore della sinistra o della destra? Nel tuo libro c'è il figlio di sinistra e il figlio di destra No io non ero nessuno di due io suonavo Ah tu scappavi scolari C'erano due grandi pericoli il terrorismo e l'eroina che arrivò negli anni 70 come una... Hai frequentato nessuno dei due? No però avevo sotto agli occhi sia una cosa che l'altra nella mia scuola c'erano terroristi c'erano persone che poi sono morte di eroina o di AIDS quindi la musica è stata assolutamente la mia salvezza io quando c'era qualcosa che non andava con i miei amici andavo in cantina a suonare ero Ruggeri quello strano quello della seconda H che suona Senti c'è qualche cosa che questi DPCM queste task force queste lockdown ti danno il senso di una irresponsabilità della politica o è inevitabile che la politica oggi non sappia che risposte dare? Beh secondo me certo non è facile oggi governare l'Italia in questo periodo va detto però secondo me ci sono dei momenti evidentemente in cui si cerca di contentare di non scontentare cioè ti faccio aprire il ristorante però devi prendere i funghi riscaldanti devi allestire fuori poi una settimana no scusa mi ho sbagliato non te lo puoi più aprire intanto tu hai fatto le cambiali per comparti i funghi riscaldanti questo è assurdo cioè c'è un po' di tira e molla paradossalmente il lockdown che può essere stato anche un sopruso per alcuni però era tutti a casa fine adesso è questo sì questo no il museo no però quello sì ma solo fino alle 9 di là sì la zona rossa cioè c'è un po' più di paura per un cantante che fa la canzone quante persone intorno ci lavorano nel senso che una volta che ti hanno bloccato a te quante persone qual è l'indotto puoi fare un indotto nel mio caso sono 30-40 persone nel tuo caso solo nel mio caso ci sono cantanti diciamo da stadio che hanno centinaia di persone cioè un business vero quello di bloccare sono centinaia di migliaia di persone ma ora si fa tutto via internet cioè c'erano tutte queste persone a parte che il concerto via internet io una volta come battuto ho detto c'è la stessa differenza che vedere un film porno e fare l'amore insomma il concerto è condivisione stare assieme appoggiati a una transenna stare guardare la tua fidanzata o il tuo fidanzato quando parte la canzone che volevi che il cantante cantassi tu sei uno che si mette proprio nei guai ma hai fatto un tweet per i pescatori in Sicilia che è una nostra battaglia è un'altra battaglia minoritaria ma come ti viene in mente io sono voglio dire lo dico perché ho un senso io quando vedo un'ingiustizia non ce la faccio i miei collaboratori mi frenano mi dicono stai calmo lascia stare ma che ti frega però io sapere che ormai sono cento giorni che ci sono dei pescatori peraltro neanche tutti italiani forse neanche tutti cristiani credo ci siano non sono tutti italiani certo certo eccetera che però come dire non fanno trend sono ma perché perché il pescatore non fa trend perché non è in tendenza i 18 pescatori sicili ma forse perché non ha una posizione politica in quanto dedica la sua vita a andare in giro a pescare per sfamare la sua famiglia non lo so non voglio essere malizioso però indubbiamente è fuori dubbio che di questi 18 poveri ragazzi uomini non si sia parlato quanto si doveva senti tu conduci in realtà canti in realtà questo dovrebbe essere il tuo bestiere principale hai fatto 6 romanzi 6 romanzi ma ti pubblicano solo perché sei famoso no almeno spero di no no perché ci sono tutti quanti perché pensano che nel 2000 io ho avuto questo dubbio e ho mandato a una casa editrice dei racconti senza dire che i racconti erano stati scritti da me proprio perché volevo togliermi mettendo un nome finto un nome finto sì ho mandato un mio amico che ha dato un nome finto e mi hanno detto a questo mio amico questo ragazzo è forte e lì gli hanno dato due notizie uno che non ero già più un ragazzo perché avevo 40 anni e due che ero uno a cui era già andata bene e poi gli hai comunicato che eri tu sì sì era un piccoli mostri era un libro di racconti in questo è la storia di una famiglia con un ragazzo di destra un ragazzo di sinistra è la storia di un paese di un paese degli anni settanta è una storia di una saga familiare ormai è un romanzo storico perché gli anni settanta gli anni sessanta sono 50 anni indietro rispetto a adesso senti ma l'ultima cosa che ti voglio chiedere poi c'è il gene che voglio vedere se si ricorda bene dove si trova perché tra un po' pagherà l'affitto per il suo studiolo ne parleremo più tardi ti voglio chiedere una cosa ma tu eri punk cioè il punk che cosa voleva dire noi negli anni ottanta il punk era una musica incomprensibile è stata una grande rivoluzione perché in quegli anni c'era la musica prog c'erano dei musicisti bravissimi gli S i Genesis i Getrotal freschi di conservatorio i ragazzi che suonavano dicevano ma io non ce la farò mai non ho mai non ho quella tecnica poi andavi a Londra e trovavi dei ragazzi che suonavano come te però erano i Clash i Sex Pistols i Damned erano questi gruppi e capivi che c'era un'energia una voglia di comunicare enorme che generò una scintilla da questa scintilla poi adesso abbiamo Sting impegno in politica impegno in politica del punk zero ma non necessariamente ci fu anche una in Italia ovviamente siccome erano vestiti di nero subito pensarono che erano di destra poco dopo i Clash partivano con un tour che si chiamava Rock Against Racism che dimostrava esattamente il contrario a proposito di razzismo hai vista la storia dell'arbitro che ha detto c'è un'altra storia non dire cose che ti potranno fare del male cosa stai per dire sto per dire sto per dire che c'è una psicosi giustificata ovviamente perché veniamo da secoli di razzismo quindi ben venga tutto quello che è però in rumeno nero si dice negro l'arbitro chiede al quarto uomo chi è che sta facendo casino se fossi stato io a fare casino avrebbe detto quello pelato Gene sì hai sentito hai capito qua la situazione Enrico lo conosco da anni siamo spero amici quindi volevo dire che è stato molto modesto perché è venuto a parlare del libro e non ha parlato del suo nuovo singolo che sostiene le località di montagna penalizzate dal DPCM te lo faccio vedere si può sciare di più ecco questo qui lui non l'ha voluto far vedere comunque Enrico ha scritto una delle mie canzoni preferite Mistero che pochi forse lo sanno ma Mistero parla di come Di Maio sia riuscito a diventare ministro questo la gente non lo sa ecco no ti faccio due domande una Enrico una tu sei anche il leader della nazionale cantanti diciamo la verità eh sei beh sei presidente sei anche uno io ci siamo incontrati tante volte quindi ecco tu lo sai che è nata la nazionale virologi beh ovviamente allora ti faccio ti dico la formazione Zangrillo Gismondo Capua Burioni Galli Crisanti Bassetti Lopalco Pregliasco Viola Palù te la senti di fare una partita con loro? beh sì volentieri beh ormai sarebbero cioè sono loro che attirano il pubblico sono loro che chiedono l'ultima cosa che tu sei interista sfegatato te la devo chiedere bravo quale dei due conte ti sta più sulle balle Antonio o Giuseppe dai pubblicità grazie tengo per Paolo Conte ah va bene bravissimo grazie Lugeli grazie davvero è stata una bellissima intervista sono contento